Incidente sulla Monte Labattese, tragedia nata da un'auto dissequestrata. Auto fuoristrada, ventenne soccorsa in eleambulanza a Valle Foglia. Riceci, venti contrari anche all'interno di marche multiservizi. Scuole Lamascarucci, trasloca Pesaro, studi, l'università si sposta a Muraglia. Urbino conferisce il sigillo d'Ateneo a Massimo Maratti. Ben ritrovati, questo è il nostro telegiornale Rossini News. Oggi è martedì 27 giugno, apriamo questa edizione occupandoci ancora della tragedia stradale di domenica scorsa sulla Monte Labattese, funestata da due morti e tre feriti. Una tragedia attorno alla quale si accavalano gli interrogativi e lo sconcerto sulla recidiva di una guida senza patente. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti in questo primo servizio. A 48 ore dal tragico incidente sulla Monte Labattese in cui domenica ha perso la vita il 27enne Macedone di Sant'Angelo in Vado, Sultan Ramadani travolgendo e uccidendo con sé pure la 32enne Martina Mazza di Valle Foglia, gli evitano gli interrogativi sulle premesse che hanno portato ad un simile strazio. Ci si chiede come sia stato possibile che Sultan Ramadani si sia continuato a mettere alla guida nonostante non avesse mai conseguito la patente e nonostante per tre volte sia stato fermato e denunciato proprio per guida senza patente. Ci si chiede come sia stato possibile di sequestrare quella BMW confiscata e riportarla alla portata della famiglia Ramadani. Nelle ultime ore l'avvocato Sergio Dini di Fermignano ha spiegato come la famiglia Ramadani avesse ricevuto l'incarico per recuperare quell'auto per necessità legate a esigenze familiari. Il giudice di pace di Urbina aveva revocato così il sequestro amministrativo, ma le raccomandazioni di lasciare quell'auto chiusa in garage sono rimaste inascoltate. Un'auto che tra l'altro era stata messa in vendita online dallo stesso Sultan Ramadani nonostante il divieto di vendita determinato dalla causa in corso sul veicolo. Un'auto ben nota ai carabinieri che domenica l'hanno notata la rotatoria di Villa Fastigi dando il via alla folle fuga del giovane Macedone. Tanti se e tanti ma alla base di una tragedia che ha ucciso Martina Mazza, mamma di un bambino di 5 anni che si era rimboccata le maniche come donna e come madre dopo una vicenda familiare travagliata culminata con lo sconcertante arresto del marito finito in manette nel giorno del loro matrimonio. Intanto è fuori pericola Alessia, sorella 28enne di Martina che era la guida della Fiat 500, così come migliorano le condizioni del fidanzato Kevin a bordo della stessa auto. Resta invece più grave il quadro clinico di Elvis Cola che era il posto passeggeri della BMW guidata da Sultan Ramadani. Continuiamo a parlare di incidenti perché un altro incidente si è registrato oggi alle ore 15 a Vallefoglia nella frazione di Cappone. Una ventenne di Cagallo al volante di una Fiat 500 gialla proveniente da Urbino in direzione Pesaro è finita fuori strada finendo nel lato opposto alla sua direzione di marcia. Non c'è stato nessun altro veicolo convolto ma la ragazza, che era sola in auto, ha riportato ferite tali da richiedere l'intervento dell'eliambulanza. Durante il trasporto all'ospedale Torrete di Ancona la ragazza si è mantenuta sempre vigile e cosciente. Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per accertare la dinamica dell'incidente e regolamentare il traffico creato. Ed ora cambiamo argomento, torniamo ad occuparci del caso della discarica a Riceci. Cresce il coro istituzionale avverso a questo impianto e si comincia concretamente a ragionare su impianti alternativi. Il progetto della discarica di rifiuti speciali a Riceci si trova ad un bivio. Il Consiglio d'Amministrazione di Marche Multiservizi si è riunito ieri per valutare una situazione divenuta politicamente ingestibile. Da un lato c'è l'intenzione di ERA e dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli di proseguire sull'iter avviato con Aurora SRL anche per evitare salate penali in caso di naufragio dell'accordo. Dall'altro lato c'è il presidente di Marche Multiservizi Andrea Pierotti che ha chiesto la virata da un progetto reputato irrealizzabile per mancanza di requisiti minimi espressi a più voci dalle istituzioni politiche interessate. Giovedì scorso si è formalizzata in tal senso la contrarietà del Consiglio Provinciale ieri anche il sindaco di Pesaro Matteoricci in Consiglio Comunale ha dato la sua sottolineatura in tal senso. Il sindaco di Petriano che da quello che leggo in passato era favorevole adesso è nettamente contrario sia lui che il Consiglio Comunale Petriano. La provincia in questi giorni ha espresso la sua contrarietà, il Consiglio Provinciale e l'assessore regionale Aguzzi ha detto che addirittura il progetto non è applicabile perché non ci sono le norme di distanza dai centri abitati quindi io credo che ci siano tutte le informazioni e le prese di posizioni possibili per far dire alla Marche Multiservizi che bisogna abbandonare il progetto di riceci. Senza riceci servirebbe un piano B su un problema di smaltimento rifiuti divenuto pressante. Per Ricci il piano B non può essere un termo valorizzatore non previsto dalla legge regionale. Il piano B secondo me è utilizzare meglio e magari di più le attuali discariche. Questo secondo me è il piano B. Mi sembra la cosa più logica. Però io non sono un tecnico e quindi delegheremo alla dirigenza di Marche Multiservizi l'individuazione del piano B. Dal Consiglio Comunale a quello provinciale il Presidente della provincia Giuseppe Paolini ha inviato una richiesta ufficiale ai vertici della regione Marche per ottenere una interpretazione autentica del piano regionale di gestione dei rifiuti che attualmente presenta gravi falle d'incertezza sia sul rispetto delle distanze da mantenere dai centri abitati in occasione della realizzazione di simili impianti sia sulla tipologia di rifiuti urbani e speciali inserite nelle suddette classificazioni. Per Paolini sono chiarimenti che hanno il carattere di massima urgenza visto l'iter autorizzativo in corso su riceci. E' appena finito l'anno scolastico e a Pesaro si prospetta un altro ritorno sui banchi di settembre con alcune novità. Oggi è stato infatti annunciato che a causa di alcune problematiche strutturali all'edificio di Soria la scuola Mascarucci si trasferirà in Viale Trieste un trasloco che comporterà un trasferimento a muraglia dei corsi universitari. Si chiude un anno scolastico e ora si prospetta una didattica 2023-2024 con nuovi spostamenti all'orizzonte che comporteranno il definitivo trasloco dell'istituto comprensivo Dante Alighieri dal quartiere di Soria. Questo perché gli studenti della scuola media attesa da un progetto di demolizione e ricostruzione già quest'anno avevano dirottato le proprie lezioni negli spazi di Pesaro Studi in Viale Trieste. In quegli stessi spazi da settembre 2023 avranno anche la compagnia di 250 alunni della scuola primaria Mascarucci che si preparano ad un cambio di sede. La Mascarucci, la scuola primaria di Soria, si trasferirà in Viale Trieste andando a formare insieme alla scuola media e alla scuola dell'infanzia Scarabocchio un polo dell'istruzione e della formazione proprio in Viale Trieste. La motivazione è che la scuola dopo il terremoto, la Mascarucci in Viale Agostini è stata visionata dai nostri tecnici durante l'anno scolastico e la situazione legata alla sicurezza delle bambine e dei bambini non ci rassicura per i prossimi anni scolastici. Motivo per cui, grazie alla dirigente e anche a tutto il personale amministrativo oltre che gli uffici tecnici del Comune abbiamo deciso di spostare le 14 classe e circa 250 bambini all'interno di Pesaro Studi. Dunque, sempre da settembre 2023 arriveranno sul lungomare anche i bambini della scuola dell'infanzia Scarabocchio di Via Rigoni saranno destinati allo stabile di Viale Trieste 391 di Rimpettaio a Pesaro Studi. Questo perché nel frattempo partirà anche il progetto di costruzione del polo dell'infanzia di Via Rigoni. Va da sé che con bambini di elementari e media a Pesaro Studi finiscono gli spazi per gli studenti universitari nella sede di Viale Trieste. L'università presente all'interno verrà spostata nel quartiere di Muraglia con cui siamo già in collaborazione, in trattativa per tutti gli spostamenti logistici augurandoci sempre che la didattica, la formazione sia sempre a braccetto con la sicurezza dei bambini e delle bambine. Destinazione Muraglia per l'università in avvicinamento al polo di infermieristica e in attesa che il San Domenico, dopo i lavori finanziati dal PNRR possa accogliere al meglio l'Ateneo stabilendo una sede definitiva in centro storico. La scorsa settimana nel nostro telegiornale vi abbiamo documentato i lavori allo Stadio Benelli dove è in corso il radicale rifacimento del campo da calcio della Vispesaro, stadio che ieri ha ottenuto anche il Via Libera allo step successivo dei lavori col Consiglio Comunale che ha ratificato la permuta con Aspes che consentirà di intervenire sia sull'impianto sia su Via Campo Sportivo. strada in cui verrà abbattuto il muro perimetrale allo stadio e verrà riqualificata la vecchia tribuna Prato con la creazione di una nuova sede del Circolo Amici della Vis, una nuova farmacia gestita da Aspes e una sala polivalente destinata sia al quartiere sia alla Vispesaro. Un'altra situazione che si è sbloccata proprio ieri nel Consiglio Comunale di Pesaro è quella del parcheggio di Porta Cappuccina vicino alla stazione ferroviaria che verrà acquistato dallo stesso comune dopo un lungo contenzioso con la società privata proprietaria dell'area che ne aveva anche temporaneamente interdetto l'accesso. Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto che prevede l'acquisizione del parcheggio con 587 mila euro di spese per definire l'esproprio dei 4 mila metri quadrati in questione e 73 mila euro per ammodernare l'area di sosta in cui si ricaveranno 145 posti auto muniti di colonnine di ricarica per auto elettriche. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni sul nostro territorio, la provincia di Pesaro Urvino oggi il nostro telespettatore ci scrive da Fano che ci segnala appunto uno stato di dissesto in cui versa l'asfalto in prossimità del ponte Metauro sollecitando un intervento di asfaltatura su un tratto stradale che rischia di essere particolarmente pericoloso per i ciclomotori. E chiaramente vi ricordiamo il nostro numero per le segnalazioni 370-366-7210 e ringraziamo il nostro telespettatore che appunto ci ha scritto da Fano. E adesso cambiamo argomento Massimo Moratti, storico presidente dell'Intere figura industriale di rilievo internazionale è stato premiato questa mattina dall'Università di Urbino con il conferimento del sigillo d'Ateneo. Amici e amici di Rossini TV siamo di nuovo ad Urbino siamo di fronte alla sede dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo diventata sempre di più protagonista di eventi che richiamano attenzione su tutto il nostro territorio. Oggi siamo qua per l'attribuzione del sigillo d'Ateneo al presidente Massimo Moratti un nome che tutti conoscono non solo gli appassionati di calcio che riconoscono in lui uno dei più grandi e importanti presidenti dell'Inter. Presidente, nel titolo della sua lezione magistralis ci sono tre argomenti lo sport, l'ambito del sociale e l'economia visti così sono 30-30-30 nel cuore di chi ci segue probabilmente il calcio ha predominanza nel suo cuore? Beh, nel mio cuore sinceramente c'è una predominanza credo che sia alla paresa perché credo che la predominanza dell'economico che non è l'economico per l'economico l'economico legato a un discorso familiare l'economico legato alla figura di mio padre e qualche cosa che è legato alla storia della famiglia quindi come età lo sento molto forte c'è il fascino poi di un mestiere che comunque è interessantissimo variabilissimo, rischiosissimo e dall'altra parte poi c'è lo sport e lo sport ti rende popolare ti porta via il cuore ti riempie assolutamente le giornate e la vita ma comunque sono due cose un po' come fascino su di me sono tutte e due un po' alla pari Lo sport è quella situazione nella quale le grandi gioie vengono condivise con centinaia di migliaia di persone l'effetto di chi dirige una situazione che porta a tutto questo Qual è? No, lei ha centrato il problema cioè noi in casa mia insomma il calcio l'abbiamo sempre visto soltanto sotto questo profilo qua cioè riuscire a fare una cosa che facesse contenti tutti e quindi poi quando le cose van male insomma ci sentiamo in dovere di ricominciare da capo di cercare di farcela e ce l'abbiamo fatta sia papà molto bene ma molto bene mio padre e poi qualche cosa anche io alla fine quindi il destino ci ha premiato in questo desiderio di vedere la gente felice e la gente alla fine era felice ed è importantissimo ed è bellissimo però è automatico cioè se uno vuole bene a una squadra di calcio e questa squadra di calcio vince è chiaro che è felice insomma che sia felice L'individuazione dei premiati avviene anche con rapporti con il mondo appunto dell'imprenditoria con il mondo della cultura quindi l'individuazione della figura di Massimo Moratti è venuta anche in questo caso seguendo queste linee quindi io all'inizio diciamo la comunicazione l'ho fatta avere tramite il contatto poi però ho avuto modo di parlarci era piacevolmente colpito diceva come al solito ma non mi merito questo riconoscimento poi c'è il problema di che cosa devo dire io ho detto mi sembra è una cerimonia però spesso cerchiamo di farla rimanere su livelli molto semplici e quindi ho detto guardi lei parli di quello che le viene in mente in quel momento di quello che pensa sia importante dare come messaggio e quindi e vi ricordiamo che potrete approfondire ulteriormente questo evento del sigillo d'Ateneo appunto a Massimo Moratti nello speciale che trasmetteremo questo venerdì quindi venerdì 30 giugno alle ore 20 nello stesso venerdì ma alle 21.20 vi mostreremo invece un servizio riguardante il progetto regionale sullo sviluppo dei piccoli porti marchigiani un progetto che come vedremo in questo prossimo servizio parte dal porto di Vallugola di Gabice Mare amiche e amici telespettatori abbiamo assistito oggi a un importante resoconto ad opera dello Svem dell'ente sviluppo delle marche per valorizzare sempre di più i piccoli porti dell'Adriatico quindi un documento che ha creato una situazione ad oggi effettiva per poter poi negli anni a venire cercare di valorizzare con la grande opera di sostenibilità tutto quello che è la porta quindi i porti che diventano delle porte anche per l'entroterra per un grande sviluppo economico e sociale fondamentalmente uno studio su quelli che sono i piccoli porti nelle marche sono nove abbiamo fatto delle azioni di sperimentazione su diversi territori ed in particolare anche qui su Gabice il motivo per cui siamo qui è un modo per capire intanto i fabbisogni dei porti e poi soprattutto per capire come possono crescere questi porti perché sono dei volani di crescita per i territori e sono dei mezzi degli strumenti di apertura nei confronti del mare verso il territorio come se fossero delle porte porti porte oggi diciamo si fa un po' il resoconto di questo progetto che è nato nel 2019 poi ha avuto la sua attuazione con un progetto pilota che ha coinvolto il nostro porto turistico di Vallugola con la sperimentazione di un bus elettrico di una navetta elettrica completamente diciamo quindi elettrica che è completamente gratuita che avesse l'obiettivo di valorizzare il porto di Vallugola quindi portare sia di portirsi verso Gabice Monte e Gabice Mare ma anche al contrario ai turisti far conoscere il porto di Vallugola perché stranamente è sempre stato poco conosciuto quindi invece questa amministrazione ha sempre voluto puntare molto anche sul porto di Vallugola che è un gioiello perché è un porto esclusivamente turistico molto piccolo riservato e di qualità sì perché diciamo che questi piccoli porti dell'Adriatico hanno bisogno anche di questi sistemi molto sostenibili per essere valorizzati sì anche perché l'altro deficit che avevamo sul porto di Vallugola è proprio il collegamento fra il porto e il parco del San Bartolo quindi questo ci ha permesso anche a tanta gente di poter soffrire di questo mezzo per spostarsi su una parte del parco San Bartolo quindi la parte di competenza del comune di Gabice è chiaro che l'obiettivo è quello di far conoscere e promuovere non solo il porto di Vallugola ma tutta la nostra riviera del San Bartolo quindi tutto il nostro parco del San Bartolo con dei mezzi con un trasporto sostenibile con dei mezzi di trasporto che possano portare anche a una riduzione delle emissioni di CO2 cercando di limitare al massimo l'utilizzo di mezzi privati si potenziano i servizi medici in alcune aree dell'entroterra pesarese parte infatti il primo luglio l'attività di due ambulatori a sostegno della medicina generale il primo sarà all'ex ambulatorio comunale nella frazione di Schieti di Urbino il secondo sarà allestito nei locali della farmacia di Casinina nel comune di Sasso Corvaro si tratta di servizi attivati dal distretto sanitario di Urbino per dare una risposta alla cronica carenza di medici nella zona medici che effettueranno visite su prenotazione riducendo così disagi e spostamenti dei pazienti da giovedì 29 giugno al 2 luglio torna a Pesaro il Caterraduno l'evento di inizio estate targato RAI Radio 2 e lanciato dal programma Caterpillar con Massimo Cirri e Sara Zambotti tanti gli appuntamenti che si divideranno fra Piazza del Popolo Teatro Sperimentale e Campo di Marte di Baia Flaminia in quest'ultima location è previsto l'atteso concerto all'alba con i baustel che si esibiranno alle 6 del mattino nella stessa serata di venerdì Baia Flaminia sarà teatro alle 21 e 30 dello show di Valerio Lundini e Iva Zanichi a seguire si ballerà con DJ set di Emma Stoccolma torna per l'ottava edizione Moon Music Notes in Pesaro rassegna i di musica classica organizzata da Amat e curata da Eugenio della Chiara che si svolgerà in due differenti spazi quattro concerti alla chiesa dell'annunziata e il quinto conclusivo al parco Miralfiore si comincia il 4 luglio quando saranno le sonorità del mandolino dell'essamble Aurata Fonte a dare il via alla rassegna la musica come veicolo di formazione e inclusione e questo l'obiettivo del progetto triennale cantiere sociale della musica che parte in questo mese di luglio allora il cantiere sociale della musica parte nel 2023 e arriverà fino al 2025 è stato vincitore del bando Vanda di Ferdinando del 2022 e parte adesso nel senso che i primi eventi appunto che ci saranno saranno entrambi il primo luglio si terrà alle ore 14 un concerto da parte di 10 ragazzi all'interno della casa circondare di Villa Fastigi mentre alle 18 sul palco del Caterraduno insieme a Donciotti si terrà un concerto con 120 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e da paesi come la Grecia Cipro e il Perù che sono partner anche loro del progetto il progetto è molto ampio perché abbraccia i diritti l'ambiente l'educazione il mondo della cultura e nel partenariato abbiamo Rossini Opera Festival AMAT l'Università di Urbino Marche Multiservizi ASPES l'Istituto Comprensivo Gaudiano l'ARCI di Pesaro e Urbino e i quartieri il comune di Pesaro e i quartieri in particolare che ci stanno supportando sono il quartiere 1 il quartiere 3 e il quartiere 9 io voglio innanzitutto ricordare il lavoro prezioso che fa Libera Musica ormai da anni nella nostra città Pesaro è soprattutto città della musica ed avere una realtà associativa come questa che promuove la musica facendo attività di formazione attività di educazione ma soprattutto attività di inclusione attraverso la musica penso che sia fondamentale una realtà che cerca di far conoscere e mettere a disposizione la possibilità di imparare a suonare ai ragazzi piccoli delle scuole ma soprattutto con un'apertura rispetto a tutti quindi inclusiva e anche ragazzi che non possono permettersi di poter andare in una normale scuola di musica a Libera Musica possono andare il loro obiettivo è appunto quello di educare e formare i ragazzi una bellissima realtà io partecipo molto spesso alle loro iniziative e devo sottolineare a parte la gioia negli occhi di questi ragazzi di questi bambini ma anche si crea un rapporto di comunità tra tutti i genitori che si conoscono che partecipano e che magari vivono anche la vita al di fuori di Libera Musica che si sono incontrati e quindi nascono anche nuove amicizie quindi veramente una bellissima realtà è un percorso che sarà lungo pieno di eventi pieno di attività cerchiamo diciamo in qualche modo di provare con la musica a creare veramente un po' un collante comunitario nel nostro territorio eccoci arrivati alla fine del nostro telegiornale sperando sempre di fare un servizio utile gradito a tutti voi e speriamo anche di alietare le vostre serate perché queste serate continua la programmazione di Rossini TV non ci fermiamo mai lo sapete anche in estate e allora questa sera subito dopo questa prima edizione del nostro telegiornale intorno alle ore 20 vedremo il racconto del conferimento del sigillo d'Ateneo a Tonino Lamborghini mentre in prima serata alle 21.20 vi mostriamo la serata finale della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro che ha visto tra i protagonisti anche Giuseppe Tornatore e poi domani sera vi ricordiamo l'ultima puntata di Amministrando questo programma che ci ha permesso di conoscere attraverso le parole degli amministratori locali i progetti per i comuni del nostro territorio domani sera ci sarà Cinzia Ferri che è la sindaca di Montelabate e poi domani vi aspetto in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa saremo in diretta anche sulla pagina Facebook sulla nostra applicazione e sul sito rossinitv.it grazie per essere stati con noi anche questa sera buon proseguimento su Rossini TV grazie a tutti